Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video oggi sono qui con Samuel per illustrarvi la mappa che ha creato e niente, quindi adesso lascio parlare lui e ve la illustra prima di partire però voglio dire che potrebbero esserci delle interferenze di audio quindi, insomma, sto avvertendo niente, detto questo possiamo anche partire con il video quindi non vi spaventate se ci sono dei rumori assurdi durante il video non è Samuel, tranquilli, tranquilli ok, allora ho creato questa mappa con l'SDK è una mappa per Counter-Strike Source si chiama I'm Sam è una mappa I'm caratteristica delle I'm Map che ci sono due spawn uno davanti all'altro i player si devono uccidere, insomma con le armi che hanno a disposizione le armi che ho messo negli spawn sono due fucili ovvero un Kalashnikov e un M4-1 più una Deagle hanno i caricatori limitati poi al centro della mappa innanzitutto il centro è diviso da un burrone con un laghetto tossico al centro si può rasciare da uno spawn all'altro tramite un ponte di legno e questo ponte di legno si può rompere rompere, ragazzi sto parlando all'alfabeta si chiama me e tardi si può rompere soltanto con la WP con un colpo di WP smetto che c'è Bebo che salta da macchetta si grazie vai avanti al centro di questo ponte troviamo un MP5 con tutti i caricatori come si può vedere con tutti i colpi dei caricatori completi ogni spawn ha due torri quindi c'è un totale nella mappa se la matematica non è un'opinione 4 4 la matematica è un'opinione lo dico io va bene e salendo su queste torri troveremo uno scout con dieci colpi quindi attenzione ad usarli nel modo giusto e non filare attenzione pure alle stalle che si che scivolano attenzione pure a pedobear la particolarità di questa mappa è una terza eh sì una terza una seconda stanza una stanza si chiama una terza piace il numero 3 lasciatelo perdere un po dove si potrà plantare la bomba in più poi troveremo vi farò vedere tra poco un'altra ecco in questo caso una seconda stanza nascosta vi farò vedere dopo come andare in quelle stanze ecco vi farò vedere subito tramite dei condotti qua troviamo due bivi andando a sinistra bivi scusatemi andando a sinistra e saliremo sopra troveremo questa bocchetta che ho appena rotto e che praticamente ci troveremo alle spalle dello spawner alle spalle dei due delle due torri andando invece a destra troveremo questi lunghi condotti questi condotti lunghi e si vede che è tardio e ragazzi non mi chiedete perché li ho illuminati cioè normalmente i condotti non sono illuminati dove sta scritto che non sono illuminati beh io quando vuoi fare la pulizia dei condotti non sono mai l'unico e vabbè si dai comunque come potrete vedere qua si potrà plantare la bomba al centro insomma in questo quadrato che ho delineato con queste potete anche non delinearlo si può plantare la bomba adesso non la planto perché sennò il codice sulla bomba è il codice per la porta sappiatelo si sappiatelo ok 73556 ricordatevi eh si e adesso metto il codice il codice per farvi vedere la stanza segreta ok dopo aver messo il codice e potrà accedere a quest'area questa stanza più chiara e dove subito noteremo innanzitutto che è verde ci sono delle luci psichedeliche verdi e poi noteremo una specie di armadietto con una WP dentro infatti l'unica posso procedere ma non è un armadietto vabbè 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 non vi interessa che cos'è basta che c'è una WP dentro eh quello è l'importante l'unica e appunto questa stanza è stata creata anzi per adesso l'utita di questa stanza è solo quella di avere una WP e nient'altro c'è anche nient'altro uo si anche perchè comunque diciamo questa mappa è sempre in evoluzione questa qui la prima versione allora come vi farò vedere adesso guardate io perdo vita perchè c'è questo dannato gas che è tossico quindi andando a chiudere questa valvola con il tasto usa ti spacca i timpani quando ci vuoi eh con il tasto usa riusciremo a togliere il gas quindi poi potremo prendere il nostro AWP sempre con 10 colpi allora come avrete notato adesso la porta l'ho aperta senza aver dovuto rimettere il codice eccetera questo è perchè una volta che mi metti il codice la porta rimane sempre aperta a meno che non andiamo a premere il tasto rosso che sarebbe il tasto di reset oppure un qualsiasi altro tasto quindi adesso la porta non si apre più come vi avevo detto il ponte si rompe solo con un colpo di AWP ecco qua si ah si e i crediti non si riescono a leggere per adesso cioè non si può leggere può leggere soltanto Samwell però comunque verrà aggiustato nelle prossime versioni verrà afficcato questo al centro diciamo dei due condotti lunghi e troveremo due bocchette che e al centro dove troveremo una smoke e una granata giusto così per informazione adesso vi lasceremo comunque un gameplay penso di aver detto tutto riguardo alla mappa ah si non hai detto che al centro c'è un al centro secca di giù cioè muori fai una brutta fine se non avrebbe utilità comunque mettere in ponte uno si mette a camperare sotto ti faccio vedere ti faccio vedere dopo la mia morte ci sarà il gameplay oh addio che fail beh adesso passiamo al gameplay e... ciao ciao a tutti eccoci al gameplay e... si sarà un normale gameplay di noi che ci massacriamo ovviamente vincerò io se con tutti i fuori onda che abbiamo fatto ho vinto sempre io ahi cazzo mi hai lasciato due vedi vedi muoreee vabbè se adesso mi ammazzi io giuro che comincio a sclerare che non ti muo io sto due eh ma perchè troia ci credo credo personale 4 questo 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 i il 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 da lontano si ti ho preso? no 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 che cazzo faccio ha buttato una granata no brutta idea eravissimi affrontavi ma veramente ti volevo affrontare peccato mi sono infatti sei 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 tanto sto domando beh vabbè è qua però dai dai ci stava erosic non posso nemmeno dire che si città perchè sta registrando ahahah poi mi rovina la reputazione se dici che c'è allora sto passando due minuti e tredici secondi no? no e se siamo ancora 5 0 e sto dominando non mi spari no scopo ahia ti sei vendicato no 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 quello che sta rosicando a caso mai sei tu no no ho i miei dubbi spatti la tastiera scopo 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 aia ok i calaschi non mi fermano scopo 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 non potevano mancare questo quanto cazzo sono potenti i russi oh però ti voglio fare hs cioè eh ma anche io voglio fare hs però e alla fine dell'ho fatto cioè nel senso eh vabbè ma loro non sanno che la mia classica parola a ver ripeto più più di cazzo di altre parole vabbè ogni seconda c'è nel senso però nel video non l'ho detto eh perché da dire questo se che fa cellame l'aspetto che sale ti ho preso solo una volta ma eh beh ecco il classico da questa distanza era una domanda mi ha detto che mi fa no 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 tu li fai sempre fail tu li fai sempre fail no tu li fai ma c'è ma c'è yes chiede pensi possiamo anche chiuderlo qua c'è mi è anzi ti ho arato abbastanza voglio cercare di fare via l'ultimo spai questo è l'ultimo non ti lascerò la gloria di vincere no 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 ho visto bastardo ho visto anche ti ho visto anche ti ho visto beh per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video e ciao 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 ciao